Eccomi, già l'arrivo! Ci è mancato poco. I banchieri a sette, siamo stati abbordati! Pilota, alla loro voce! Ci penso io! Cosa? Cosa? Tappare la tua! Cosa? 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 Grazie a tutti. Sono dietro di noi! Grazie a tutti. Tenente, Valkyrie 2 abbattuto. Richiedo trasporto immediato. Grazie a tutti. 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 l'impulso di a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. qui. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. orchi. a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.